Oltre 15.000 tonnellate di rifiuti smaltite illecitamente tra la Campania e la Sicilia. Un giro di affari di oltre un milione e mezzo di euro emerso grazie alla maxi operazione rifiuti lontani della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Cotto su delega della direzione distrettuale antimafia di Messina. Nel mirino delle fiamme gialle, rappresentanti legali di due società che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti di Tufino e Giuliano, entrambi nel napoletano, e un amministratore protempore della Tirreno Ambiente, la società che controllava la discarica di Mazzara Sant'Andrea da tempo sotto sequestro. I tre soggetti sono stati rinviati a giudizio, sono accusati di traffico illecito di rifiuti dalle indagini emerso che, mentre la Campania era travolta dall'emergenza, il periodo di riferimento e l'anno 2010, in Sicilia venivano portate tonnellate di spazzature in maniera illecita, senza trattamento di triturazione, vagliatura meccanica e procedure di biostabilizzazione aerobica. Appostamenti, accertamenti e dettagliate indagini hanno permesso ai finanzieri di appurare come della città di Napoli arrivavano rifiuti solidi indifferenziati a Mazzara Sant'Andrea attraverso centinaia di autocompattatori. 600 i mezzi finiti nella lente di ingrandimento della DDA. A livello normativo i rappresentanti delle società avevano aggirato gli accordi delle regioni Sicilia e Campania attribuendo un diverso codice rifiuto e facendo passare tutto come lecito è normale.